Prendo queste parole in questa giornata di ottobre, sembra, ma voglio ricordare a tutti che abbiamo avuto quest'anno il giugno più caldo della storia e siamo in un contesto proprio di caos climatico che rende evidente il tipo di situazione che si sta creando in un momento in cui per la prima volta nella storia dell'uomo le concentrazioni di CO2 hanno superato i 400 parti per milione. Questo è un momento dove vediamo i dati dei climatologi che continuano a confermare come il caneta stia andando effettivamente fuori dalla situazione climatica normale. Abbiamo avuto quest'inverno una situazione assurda con temperature bassissime a New York e molto alte in Alaska, proprio perché l'eccesso di calore che viene assorbito dal mare nel momento in cui i ghiacci si sciolgono troppo nel polo nord, fa sì che tutto il sistema atmosferico sopra il polo venga disturbato con temperature troppo alte. Quando arriva l'inverno questo calore di eccesso viene mandato in atmosfera, disturba il jet stream e quindi che è questo vento che tiene il freddo dentro il circolo polare artico e quest'inverno abbiamo visto questo jet stream comportarsi, come hanno detto alcuni climatologi, come da ubriano. Cioè il jet stream ha cominciato a oscillare e abbiamo avuto picchi di temperatura in Alaska, troppo caldo e picchi di freddo invece a New York e a Manhattan. Ora, questa è l'ultima tappa, devo dire, doverosa a Brindisi di un tour che abbiamo intitolato Non Positiviamo. Ed è un tour che abbiamo iniziato in Liguria ospitando il movimento anticarbone di Vado Ligure, di Savona e che concludiamo qui a Brindisi. È un tour che abbiamo dedicato anche alla protesta contro le trivelle a mare. Noi siamo un paese strano, un paese che concede sin troppo facilmente le concessioni petrolifere a mare. Io voglio ricordare che se oggi avessimo la bacchetta di Harry Potter e potessimo estrarre tutto il petrolio che c'è dal canale di Sicilia al metà dell'Adriatico dove ci sono i campi petroliferi, noi potremmo coprire i consumi italiani per circa due mesi. Quindi è un governo che accetta di correre dei rischi che sono ovviamente quelli che sono legati alle perforazioni petrolifere a mare per due mesi di consumo. Quindi questo secondo me è inaccettabile. Noi non siamo contro l'estrazione del petrolio to go. Noi sappiamo che la transizione energetica richiede tempo, bisogna costruire un sistema alternativo e in Italia abbiamo fatto passi in avanti, in particolare questa regione fa parte di quelle che hanno maggiore produzione da rinnovabile, ma i segnali che la politica manda sono segnali estremamente preoccupanti. Io credo che il governo Renzi che di fatto ha ereditato la strategia energetica nazionale scritta da Passera dove si prevede l'estrazione del petrolio fino all'ultima goccia, ecco un governo che continua su questa strada e che quindi dice al Paese noi estrarremo il petrolio fino all'ultima goccia e contestualmente non costruisce uno scenario alternativo che basi il nostro futuro al 100% sulle rinnovabili non è credibile. Io credo che questo è anche nel contesto questo attacco alle rinnovabili con questa campagna che sta praticamente cercando di far pagare retroattivamente a chi ha investito nelle rinnovabili sia un altro segnale brutto perché noi abbiamo credo due grandi questioni a cui dover rispondere in Italia e in Europa e in generale nel mondo. Una è quella di produrre l'elettricità e l'energia in un altro modo, che sia ambientalmente sostenibile, che produca più posti di lavoro, delle fonti fossili e dei rinnovabili producono più posti di lavoro a parità di energia prodotta e che quindi sia inaccettabile che nel 2014 ancora si prosegua su una strada albaiana. Io non entrerò poi nel merito delle questioni più locali, c'è Andrea Boraschi responsabile della campagna, abbiamo invitato questa mattina sia il Presidente Vendola che il Sindaco Consales, ma nessuno di due viene qui oggi. Ci dispiace perché noi siamo un'organizzazione che fa attività di protesta anche molto radicali, ma sempre vogliamo parlare e confrontarci con tutti. Nella politica non guardiamo il colore delle persone, l'ustra unica discriminante è il rifiuto della violenza, che è quello che noi pratichiamo. Crediamo che sia un'occasione mancata qui a Brindisi per poter fare il punto della situazione. naturalmente io sono capo di un'organizzazione di attivisti e un'organizzazione di attivisti è per sua natura un'organizzazione di ottimisti perché se uno è pessimista se ne sta a casa e si lamenta. Quindi dobbiamo anche guardare il bicchiere mezzo pieno. Se noi guardiamo i segnali che vengono da varie parti del mondo e anche dall'Italia, i segnali del cambiamento, della possibilità di cambiamento ci sono. Lo vediamo in Cina, lo vediamo anche in maniera molto sofferta in India dove due nostri attivisti sono stati arrestati il 30 di luglio perché protestavano contro la deforestazione della foresta di Mahan per aprire una miniera di carbone. In India abbiamo realizzato nel Bihar, è il primo caso al mondo, di una micro rete da villaggio dove 2.400 persone oggi hanno l'edificità solo dal sole ed è il primo caso nel mondo che avviene soprattutto in un paese in via di sviluppo. Lo vediamo in Germania dove stiamo organizzando una catena umana per il 23 di agosto contro l'apertura di una nuova miniera di lignite. Abbiamo occupato per 8 giorni il partito di Linker che è il partito della sinistra tedesca perché 4 suoi esponenti di governo nel Brandenburg hanno votato a favore dell'apertura della mia dignite. Questo per dirvi che dall'altro campo vediamo che ci sono vari progressi nelle normative. In America la normativa anticarbone di fatto non sono riusciti a far passare al congresso un piano per il clima ma Obama e l'EPA stanno alzando i livelli di legge sul carbone e molte centrali stanno chiudendo quindi da qualche punto di vista vediamo che anche lì c'è un movimento dove il carbone viene in qualche modo ralentato e quindi vediamo la possibilità di farcela, però per farcela dobbiamo continuare a dare battaglia ed è quello che è che non ci sta. Andiamo a buon anno.